È la prima ambulanza anti-infettivi allestita in Italia e verrà consegnata nei prossimi giorni ai volontari della Croce Azzurra di Cadorago. Un mezzo innovativo, con un vano sanitario tecnicamente a pressione negativa, che riduce il rischio di contaminazione tra pazienti affetti da Covid e altre infezioni e gli operatori sanitari. L'ambulanza è costata 112.000 euro, 42.000 dei quali sono stati donati dalla famiglia Novarese della Sati Group di Appiano Gentile. L'importo è parte del contributo di un milione di euro che la famiglia Novarese ha deciso di stanziare in diversi capitoli nella lotta al nuovo coronavirus. I volontari di Cadorago della Croce Azzurra, guidata dal presidente Stefano Clerici, impegnati fin da subito nel contrastare l'emergenza a livello locale e regionale, saranno quindi i primi in Italia a poter operare con un nuovo mezzo che è stato allestito in tempi record con caratteristiche innovative e inedite. Frutto di una sinergia tra Croce Azzurra e Cadorago, aziende e cittadinanza, l'ambulanza è progettata per offrire un vano sanitario ad ambiente privo di saturazione batteriologica contro la diffusione dei virus, specialmente nelle fasi di trasporto di pazienti potenzialmente infettivi e con alto rischio di contagio.